Ma che starà a fa' lì? Che fate? Venite, venite, venite con me Che oggi faremo una cosa molto, molto bella Sarò Babbo Natale Per qualche ora Secondo voi come lo fa? Una merda? No dai, speriamo di no A me piace moltissimo fare queste cose Soprattutto vedere il volto dei bambini Quando consegno a loro i regarini E quando entro E penso che lo vedrete anche voi Perché ci sarà qualche primo piano di Con quegli occhi La felicità di un bambino Come si può descrivere? Non lo so Io la vedo facendo queste cose Poi è difficile descriverla Però è una cosa che ti fa star bene Quindi siamo belli carichi e pronti Ma io non hai tanta cosa Perché? Eh sì Perché pensa, pensa se di si strappa E quando hai No vabbè Io non giocare Però adesso un po' perché No ti mettiamo seduto Ti rompiamo da tutto Con tutto Se ci mettono fuori Una bella coperta Ma la pepana diventa Ho! 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 Ho Merry Christmas baby The snow is laden to Fidi No! No! Sì! Non è bravo, chi è che non è bravo? C'è che non è bravo E io che? Si chiama Dodi, don Todi Gennaro? Fili! Chi è Fili? Non lo vedo, alzi la mano, l'abbassi ora Eccola! Oh, Madonna! Adelaide! 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 Adelaide, Adelaide, poi abbiamo François, no ha detto male, Matilde, poi abbiamo il signor Leo, dov'è? E' da questa parte, vedo dove c'è la rete, ho contato una cosa per tutti, il marshmallow, il marshmallow me li mangio io, il marshmallow gli do a mamma, grazie, è per tutti voi, adesso vediamo tutti, ok? Reino! 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 Buon Natale!